ciccioli belligeranti buonasera e bentornati dal vostro dictator lawrence saturday night live ormai l'appuntamento fisso del sabato sera per tutti quei ciccioli belligeranti che insomma sono un po' indifferenti alle mondanità del weekend ma preferiscono la cristianizzazione o meglio il sangue la guerra buonasera a tutti un saluto a tutti i ciccioli che questa sera sono già lì caldi pronti per belligerare ciao mattia andrea zordan ciao domenico frid raven alberto buonasera buonasera ragazzi ciao matteo bruno sangiorgi il nostro regno inizia il nostro regno o meglio il nostro impero quello per il quale combattiamo inizia ad essere un tantino egemone devo dire e noi fondamentalmente siamo liberi di scorazzare a destra e a manca cercando di capire quando si può andare a fare la pace perché onestamente a noi di tutto questo ambaradan ce ne frega relativamente poco nello scorso episodio ragazzi siamo saliti al grado 4 del clan e questo ci ha consentito di acquisire un nuovo compagno oltre a questo ragazzi è nata brescia la terza bimba buonasera marco ciao riccio buonasera belli come state cari allora chiedo gentilmente un feedback audio video in modo da poter procedere nel migliore dei modi un saluto anche al cammellino e al mio adoratissimo samutura ciao ragazzi come state io spero di riuscire ad avere un altro figlio maschio perché avevo promesso al josuevian un personaggio il problema è che è nata una bambina quindi sarà un po l'obiettivo di questa sera ciao lord richard buonasera ricchi allora ragazzi dai voi vi ricordate per caso dove avevamo lasciato la nostra la nostra flotta tra l'altro una cosa che volevo fare era andare a recuperare le materie prime per i nostri per i nostri workshop quindi noi dobbiamo prendere argilla dobbiamo comprare un sacco di grano e dobbiamo prendere anche le pelli per la conceria per produrre cuoio allora vediamo un po qua che c'è quanto guadagniamo intanto a vediamo di fare un favore a questo tizio qua facciamoli fuori questi qui ok così bagniamo un attimino il terreno vicino a quella città che si chiama adrianopoli una città estremamente sudicia allora io direi tu mi vai a fare il capo e tu ti metti lì cavallerie su di me incominciamo bene ciao josue jo è nato il quarto bambino ma in realtà è una bambina non ha il pipo non ho potuto dedicartelo l'ho chiamata temporaneamente brescia lascio a te la scelta o del nome per la bimba oppure se non vuoi una bimba dobbiamo dobbiamo aspettare che di farcire nuovamente di farcire nuovamente nostra moglie non siamo neanche riusciti ad arrivare la fanteria ha già piallato tutto bene comunque come stai jo tutto bene abbiamo fatto dai prigionieri la guerra ragazzi sta andando veramente veramente nel migliore dei modi devo dire sta andando veramente bene noi abbiamo 1800 allora sopra patrasso dov'è che abbia lasciato la flotta noi a tessalonica sai che non mi ricordo diamo quanto costa l'argilla dobbiamo fare dei carichi per riempire i nostri workshop argilla a 11 ma iniziamo a comprarla vediamo anche ad adrianopoli fatemi mettere il muto al telefono che non voglio distrazioni ola prossima figlia parma farcisca farcisca e farciremo acqua c'è un po di argilla che possiamo comprare allora dobbiamo recuperare dobbiamo recuperare la la flotta stava tessalonica sai che non mi ricordo voi vi ricordate dov'era la flotta siamo in missione commerciale noi adesso è non è qua dove cacchio l'abbiamo lasciata la flotta noi sai che non mi ricordo mica grande 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 samu raga mi serve il vostro aiuto eh a sud di durazzo allora è questo questo ferry point qua proviamo andare a vedere se è lì noi qui possiamo anche reclutare volendo quanti cavalli abbiamo ancora in perdita ancora in perdita qui quanto costa il grano vediamo 50 predoni grano 14 è troppo 50 predoni sono ottimi per skillare le truppe buonasera alessandro siamo in missione per conto di dio e sia onestamente facciamo combattere a piedati i cavalieri infatti Aspetta qua che devo Massacrare un po' di tutto Pulito Risultato pulito Zero perdite Qui abbiamo skillato E infatti Qua si skilla Cos'è che abbiamo come prigionieri Saccheggiatori del ciula Allora Noi possiamo dare Un po' di roba Che si fanno 820 di esperienza Le nostre truppe Non sono sufficienti per farli rancare Dunque 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 Vai a Tirana ripassa di qua Magari recuperiamo altri Byzantine Night Molto bene Ciao Invi Citazione da Blues Brother Allora Ma guarda che belli Guarda 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 quanti Guarda Non abbiamo i soldi Fra non abbiamo i soldi Fammi vedere innanzitutto Se la nave è qua Sì è qua Mettigli il pallino Purtroppo quando caricate Un salvataggio ragazzi Salta tutto Ok prendiamo questa Dunque missione comprare grano Comprare argilla per rifornire i nostri magazzini Allora per quanto concerne il grano Noi potremmo andare in missione in Egitto Dove di solito c'è sempre una quantità di grano spaventosa a prezzi bassi Dobbiamo risalire il Nilo ragazzi Dobbiamo risalire il Nilo Togliamo la spunta al ferry porto Mio signore Saltano i pallini di Fra Giulio Che vuol dire? No vabbè ma i soldi li facciamo Non vedete i denari Ah aspetta Sì 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 assolutamente Così è meglio Ecco Siamo a corto di provviste mio signore Allora Pallino a Iscandria Commercio Vediamo un po' qua il costo Possiamo prendere del pesce Col quale sfamarci Ok il grano qui non conviene Quindi direi Scendiamo giù di qua Vediamo nei villaggi Perché noi comunque ragazzi abbiamo il bonus nei villaggi per l'acquisto 11 è troppo Abzet Ai sud Andiamo giù con la nave Il pesce qua costa 5 Beh possiamo Possiamo comunque marginare col pesce Possiamo comunque marginare col pesce Vediamo un po' Almeno da fare un pochino di soldini Vuoi dire che non è più un buon mercato L'Egitto Possiamo andare ad Al-Kufra Onestamente Non ci siamo mai stati qui Togliamo Iscandria No le palle Non devi togliere L'abbiamo lasciata lì No L'abbiamo messa Al Cairo La flotta A Isulat Commercio Vediamo un po' qua Il grano costa 8 Il pesce non è competitivo Sai che non ci conviene più Comprare il grano qui Se a Kufra Riusciamo a vendere Del pesce bene Il vero problema È che questo birrificio qua Non sta producendo un cazzo È questo il problema È questo il problema Non produce nulla Perché probabilmente non ci sarà grano in quella città Il grano ucraino Adesso iniziamo a recuperare un po' di soldi E poi Dobbiamo andare a trovare del grano Qua penso che il pesce riusciamo a venderlo In mezzo al deserto Camilla la venditrice Camilla Sai che però Attenzione Vota a favore del proprietario di Cracovia E qua c'è sempre di mezzo Costantin Io voto per lui Stanno letteralmente disintegrando l'impero I nostri Ci servono muli Ciao Stefano Allora già qui il pesce a 12 Possiamo venderlo I datteri a 7 Sono ottimi Il pesce lo vendiamo Tienene giusto a 93 Quanto ci danno? 20 Direi bene Ad Alessandria a 9 Si può comprare l'argilla Quindi vendiamola qui Compriamo i datteri Datteri a 8 Compra tutto Vediamo se qua abbiamo dei muli Mule Mule Guarda quanti datteri che ci sono qua Si qui abbiamo i Sampter Compriamo dei Sampter I muli non li voglio Ma prendiamo anche il mule In via eccezionale Ciao Wolfix Già nel vanilla L'economia tende Partire un boom Per andare in depressione Nel primo anno Per poi riprendersi Ho notato che nella mappa europea È molto più punitiva Dipende dove E dipende anche All'interno di quale regno Tipo una cosa che ho notato In Francia È molto particolare In Francia È molto particolare Ci sono proprio dei momenti In cui ad esempio Le pellicce Riesci a comprarle Bene Altre che nonostante Ne abbiano in surplus Hanno dei prezzi Comunque Esagerati Allora Abbandoniamo Spingiamoci Spingiamoci di qua Qua ci sono i datteri Qui direi che Possiamo fare il carico Di datteri ragazzi Possiamo fare un carico Di datteri Che sembra Si vendano bene Qua per esempio In questo castellino Abbiamo Argilla Argilla Tutta roba che ci serve Datteri a otto È ottimo Qua ci marginiamo Tantissimo Ci marginiamo Tantissimo Allora ragazzi Ricordiamoci Se dobbiamo comprare I datteri Bisogna venire Nella zona Di Alcufra Andiamo dal Fra dei datteri Nel cuore di Giussano Alberto è nato Avventuriero Ardente Distinto Intracciato Da guerriero A comandante Cammino tracciato Lega nerd Fondata Suo sogno Realizzato Carina Carina Questa prodotti Datteri Mamma mia Mamma mia Quanti soldi Che facciamo Qua con i datteri Qua è pieno Di cavalli Ragazzi A Zawila Ci sono Tre province Che se Si consegnano Tutte lì Qua probabilmente Riusciamo a comprare Dei cavalli Bene Fai una cosa Torniamo di là Flotta Al Cairo L'unica cosa È che Il grano Inizia ad essere Una merce Un po' troppo rara Ne fanno Una quantità Spaventosa Di datteri Ma le anglo-varangiane Le ho Anglo-varangiane Ne abbiamo reclutate Tanti Di Byzantine Knight Poi dopo Quando torniamo Nei nostri territori Ne reclutiamo Altre Certo che Si Il nuovo Proprietario Di Varsavia E stavolta La vuole Costanti Oh Qui Gabras 63 Non è mica male È salito Di livello Alberto Molto bene In che In fasci Diventa sempre Più bello Ragazzi 100% Influenza Restituita Quando una proposta Che sostieni Fallisce Un rapporto Extra Quando aumenti Le relazioni Con i signori Misericordiosi Bonus Al rapporto Quando paghi Più Della cifra Minima In uno scambio Questa Potrebbe essere Interessante Per noi Ma qui Dobbiamo Assolutamente Aumentare Il soci E direi Aumentiamo La leadership Non sono mai Riuscito Ad arrivare Al top Dell'abilità Commerciale Con un personaggio Beh qua Per esempio Abbiamo Un cammello Da Narshaoui E una Cavalcatura Normale Prendiamo Dei Samter Prendiamo Dei Muli Grano Formaggio Non conviene Secondo me Abbiamo Esaurito Le probabilità Fatemi Arrivare Nella città Qua di fianco Poi torniamo Indietro Recuperiamo Altri datteri E andiamo A trovare Una zona Dove Comprare Come si dice Grano A poco prezzo Le nostre birrerie Non producono Non producono Un caso Henry È fuggito Da Venezia Sospesa Sospesa per insulti Razzisti A menian Datteri a 20 Vedi già qui Se li possono Infilare In quel posto A 20 Non li compro Significa Partita Sospesa Per insulti Razzisti A menian C'è Qua non conviene Comprare Un caso Anche aprire Delle velluterie Aprire Negozi Che poi dopo Dobbiamo essere Noi a rifornire Non facciamo Vendere niente Lì però Bisogna diventare Autonomi Economicamente Come si dice Con le tasse Iniziamo a produrre Gioielli Iniziamo a produrre Velluto Tutta roba Di alta classe Che poi dopo Quando il laboratorio L'ha prodotta La recuperiamo noi E andiamo noi A venderla Il mio obiettivo È quello lì Il mio obiettivo È quello lì C'ha Rifatti un giro Qua sotto Poi ripassiamo Da sopra Passiamo Da si Facciamo Sunnu Siwa E vediamo Se qui L'argilla Si riesce a Comprare a poco Ansaldo È fuggito Sì Ha senso Alzare L'ingegneria Però Al momento Non mi Non è prioritario Secondo me Noi purtroppo Adesso Ragazzi Dobbiamo Incamerare Una quantità Di denaro Spaventosa E poi Capirete Il perché Perché Dobbiamo Anche Prepararci Per quando Faremo La secessione Gertrude Vai Gertrude Io sono Un signore Misericordioso Carovana Del birraio Abbiamo Tanti Di Datteria Confermo Dico A nostro Speso Per Insulti Sì Vabbè Almeno Potrò Rivedermela Quando La Recupereranno Datteria Datteria A 15 Compriamoli Saliamo Di qua Voi vi ricordate Se nel mare del nord Il grano Si riusciva a comprare A poco Argilla 12 Compra Si è alzato tantissimo Il prezzo Dell'argilla Comunque Non producono Non ce la fanno A produrre Non ce la fanno A produrre Grano a 11 Cioè È troppo a 11 Il grano O che c'è veramente Una crisi Ma Sospesa Nel senso Che stanno Aspettando E poi Riprendono Oppure Rinviata Fatemi sapere Sta cosa Zona Colonia L'hai pagato 6 Il grano Eh ma Io qua in Egitto L'avevo pagato 3 E quello Il fatto Per questo Che dico Sono impazziti I prezzi Perché poi I prezzi Non sono fissi Raga E sono dinamici Cioè Se per qualche ragione Che ne so Una guerra Le carovane Vengono intercettate I popolani Che dal paese Portano La roba Al Ma che belle Ci sono le piramidi Mio signore Con la sfinge Dicevo Se vengono intercettati Poi dopo Il prezzo aumenta Perché c'è Scarsità Grazie Albe Allora Grano a 9 Datteri a 29 Minchia Che palle È sempre a 9 Qua sto grano Sempre a 9 Sempre a 9 Sempre a 9 Però è 400 Compriamolo E non abbiamo Abbastanza denaro Vedi Allora Noi Dobbiamo andare Al Cairo Dobbiamo andare Minchia Minchia Fino a Königsberg Sono arrivati Minchia Guarda qua Costantin Questiamo 60 Di influenza Per migliorare Boom Pesantemente Noi ne abbiamo Ne abbiamo parecchia Di influenza Noi dobbiamo Saturare Le richieste Dei nostri Alleati Per poi dopo Avanzare Pretese Legittime Quando andremo Ad attaccare Genova Perché a me Genova Interessa In Siria Lo avevo pagato Poco Che è un Hicksberg Scusami Vabbè io ci investo Anche 100 Pari a 100 Mi ama A quest'uomo Proviamo in Siria Sette Il pesce Proviamo Andare in Siria Una bella Rogna Quella lì Quella lì Una bella Rogna Qui il pesce A 5 Datteri A 16 Si possono Anche comprare C'è tutta roba Che dobbiamo Vendere Ciao francopio E stiamo Cercando Il grano A poco prezzo Ragazzi Per le nostre Gerusalemme Ragazzi Gerusalemme Ancora in mano Regno di Gerusalemme Eh sì Ci serve Il grano Qui il pesce Continua a costare Poco Ad Asiut 8 È il prezzo Più basso Che abbiamo Lana 8 Questa la possiamo Comprare Si può Vendere Filadelfia Che prosperity Ha Gerusalemme 6880 Madonna Se è ricca Gerusalemme Illegale Sta cosa Puttana Eva Proviamo Andare Sopra Lì Ma scusami Ma sta guerra Vorrei capire Io Noi abbiamo Più del doppio Delle città E più del doppio Dei castelli Rispetto Rispetto All'Oli Roman Empire Nomelloli Roman Empire È fottuto Proviamo a dirigerci Facciamo Antiochi Aleppo Aleppo È del Kingdom of France What? Qua costa meno Il formaggio E il burro Del grano Cioè nel senso Lana 5 Ne potremmo vendere Del pesce Potremmo vendere Del pesce Potremmo comprare Sicuramente La lana La lana 5 Che è comprata Stra bene Anche la seta 9 Comprata bene Ne potremmo vendere Dei datteri E comprare Anche Della seta Grezza Siamo appesantiti Ha fatto col Samazic Ciao Cigno Piccolo Maranza Come stai Come stai Cigno Tutto bene Dai che siamo Ad Aleppo Lo facciamo Un torneino Ad Aleppo Filippo Aleppo Filippo Abbiamo un Filippo In chat Buonasera Nate Reaver Madonna La seta Grezza Qua 41 L'abbiamo Pagata Un cazzo Ma vendila Tutta Torno di là E la ricompro Il grano Qui a 21 Questa La tradiamo Di là Madonna La tratta Più conveniente Del mondo In questo momento Compriamo Seta D'Antiochia La vendiamo Ad Aleppo Sono contento Che ti vada bene Cigno Ci manchi Quando è che Vieni a trovarci Sul discord Mi manca il Cigno Quando giocava War Thunder Sai che è tornato Anche Furio Secondo me Furio sarebbe Molto contento Di rivederti Su War Thunder Furio Che è stato Il suo mentore Ma Allora Ehm Aleppo Per 24 Allora L'aiuta La dobbiamo Vendere Tutta qua E paghiamo Mille Quindi Io direi Le pecore A 16 Eh Insomma Le pecore A 16 Sono buone Da comprare Ci darà Un Malus Mandria Terrificante Però queste Le potremmo Le potremmo Macellare Tutte Madonna Le pecore A 16 Sono regalate Le pecore A 16 Ragazzi Sono regalate Noi peraltro Abbiamo bisogno Della pelle Quindi pecore Macella Tutto Perché noi adesso Abbiamo fatto 40 di pellame Che scaricheremo Nella nostra Conceria È quasi Un peccato È quasi Un peccato Io le voglio Tutte quelle pecore Lì a quel prezzo Perché il pellame Poi dopo lo portiamo Nella nostra Conceria A Zagabria Di laboratorio Non facciamo Un cazzo Non facciamo Di laboratorio Ragazzi Di laboratorio Non facciamo Un cazzo Non ci mancano Le materie Le prime Sì Vabbè Ma pazienza Chi se ne frega Chi se ne frega Tanto è una tratta Breve Abbiamo la flotta Una volta che saliamo Sulla flotta Non abbiamo più Il mallus È troppo conveniente È troppo conveniente È troppo conveniente È troppo conveniente Non facciamo Un cazzo È troppo conveniente È troppo conveniente Di horas Un cazzo Di laboratorio Torniamo qua 580 Eppure io Vai Damasco Damasco non ci siamo neancora ad andati Qua c'è la Utah Il lino a 13 Si può vendere ad Aleppo a 46 Compra Non abbiamo i soldi Niente Ma non mi stupirebbe Non mi stupirebbe Se l'Udinese dovesse vincere la partita Ragazzi io in questo Milan ho proprio Zero fiducia Zero fiducia proprio La lana Noi l'abbiamo comprata ad Antiochia A 5 Quindi direi fino a 10 possiamo venderla Carne a 29 Non la vendo La tengo Piuttosto ci cibiamo di carne Ci cibiamo di carne Bom Ritorniamo ad Antiochia Vediamo se riusciamo a prendere Altra roba O seta O seta O pecore E ce ne torniamo a scaricare la merce Il grano a 20 Lo vendo tutto È troppo Olive a 8 Ragazzi le olive ad 8 Seta grezza a 9 E io qua Io vendo la bandiera del balestriere E il trottatore di Omar Per forza Per forza Minchia le olive a 8 Compro le tutte Compra anche tutta la lana Sono una valanga di soldi questi ragazzi Allora noi adesso abbiamo Seta grezza Seta grezza Ne abbiamo 80 Ma sai che questa roba qua Io la terrei Io non la vendo Io adesso vado a Venezia Facciamo di Venezia Il nostro hub commerciale principale Allora noi dov'è che abbiamo i negozi Abbiamo un birrificio ad Atene Abbiamo un birrificio ad Atene A Zagabria A Zagabria invece Che tanto non produce un cazzo Quindi non graverà Sul nostro bilancio Non ottieni dal magazzino Te lo vengo a dare io Quindi noi dobbiamo andare A Zagabria E a Dove è l'altra Ancona Allora andiamo ad Ancona adesso Andiamo ad Ancona Sarebbe figo se si potesse dire Al tuo companion O alle tue carovane Di fare esattamente questa cosa Cioè andare a comprare Un determinato bene Ad un massimo del prezzo E scaricarlo nei tuoi laboratori Esatto Cigno L'obiettivo di questa serata È quella di rendere Finalmente produttivi I nostri I nostri workshop E spero Riuscire a far terminare Questa guerra Che sta andando avanti Da una vita Cioè l'impero ragazzi È arrivato Ad Anzica Cioè Fanno Un disastro Fai una tappa No aspetta Siamo carichi No no Vai ad Ancona Scarica la merce ad Ancona Noi possiamo aprire altri Sì possiamo aprire un laboratorio Eh Onestamente Onestamente Noi potremmo anche pensare Di fare un'altra cosa Noi potremmo a Venezia Fare Lab commerciale Di tutte le risorse Comprare Tutte le attività Che abbiamo a Venezia In modo da concentrare lì Tutto quanto Non sarebbe male come idea Tipo il birrificio di Atene Vendilo È una perdita Il birrificio di Zagabria Vendilo Il negozio di ceramica di Ancona No beh questo potremmo tenerlo Stefano Non le prendo da Da Steam Non le faccio Non le faccio Non gioco da Steam Con le mod Le scarico da Nexus mods Poi vabbè Lo avvio da Steam normalmente Allora adesso Qui dobbiamo entrare Nel magazzino E in questo magazzino Noi iniziamo A tirar giù Tutta l'argilla E ci prendiamo Il vasellame Ok Che è quello Che abbiamo prodotto noi Ora andiamo a Venezia Proprietario di Danzica Ciao Black Allora Vedi già qua L'olio A6 Possiamo venderlo Il vasellame A 169 Ad Antiochia Si può vendere A 227 Il vasellame Io direi Teniamolo Vendiamo qualcosina Sotto il 150 Il vasellame Non lo vendiamo Lo scudo a goccia Della cavalleria Possiamo anche venderlo La seta grezza 44 Noi l'abbiamo Aspetta però Non venderla Non venderla Noi qua Che cosa stiamo Producendo però Scusa Nulla Noi abbiamo Una conceria A Zagabria Che fa 166 La conceria Vuole Vuole Pellame Eh però Fanno Uno a Uno qui Questo che Non capisco E questo Che non capisco 21.000 Allora A sto punto Andiamo a Zagabria E gli lasciamo giù Gli lasciamo giù Il pellame Si sono ripresi Vienne I maiali Potrebbe essere Una rotta Pericolosa Questa Eh Nostra moglie Porca troia È sempre in guerra Non trombiamo più Meglio Che così Si infoglia Per bene Anche noi Ci infogliamo Che siamo Lontani Da nostra moglie Così poi Dopo Quando ci troviamo Facciamo Due giorni Ad Agadré Bene 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 Noi dobbiamo Produrre Produrre Ah Vacca puttana Vacca puttana Vacca puttana Vacca puttana Vacca puttana Siamo fottuti Cazzo Ci fottono Tutte le merci Ci fottono Halt You want Che due Coglioni Io lo sapevo Che andava a finire così Lo sapevo Non scappo Non ce la faccio Scappare Ci arrendiamo Cazzo Devi fare Io non capisco Perché non trattano Sta cazzo Di pace Gli hai occupato Metà regno Ma falla Sta cazzo Di pace Dio 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 Tutte le mie merci Tutte le mie merci Eh Mo mi assediano Eh Figuriamoci Mi assediano Iatara Eh Dove cazzo Adesso il nostro Imperatore Alessio Muoviti Sudicio Bastardo Ma non ci voglio Credere Ma non ci voglio Credere Vedi di muover Ma vieni a salvarmi Imbecille Madonna Madonna Però ragazzi Madonna 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 Vieni a salvarmi Testa di minchia Muoviti Mi prendono la città Non che me ne freghi molto di Iatara Eh Però Alessio Muovi quel culo flaccido Dai Cazzo Che sta iniziando ad assediare Fischia Dai Alessio Dai Alessio Corri Alessio Corri 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 Alessio Corri Alessio Sì Alessio Sì Porca Troio Eh Sono bloccato Non posso scappare Sì Siamo Siamo bloccati dentro qua Devono finire la battaglia No vabbè Ma di Iatara Non me ne frega niente Me ne frega Delle merci Me ne frega Raga Me ne frega Delle merci Ci ho messo un'ora Per andare a prendere Quelle merci Porca troia Porca troia E che cazzo Di nervoso Però Dai Avevo dentro Anche tutto Ma che due Maronio Tutto perché Zio Boia I miei Mia moglie E Fiatella Sono in un esercito Del cazzo E non c'è verso Di portarmeli via Raga Si è bagato Non mi fa più muovere Devo caricare Meno male Meno male Forse non perdo Forse non perdo Le merci Non so Dove eravamo Fammi lasciare giù Tutto a Venezia Per forza Era bloccato Il personaggio Non si muoveva Tante volte Capita sto bug Non è la prima volta Ho buttato via Una partita Io per una roba Del genere Dimmi che sono Che sono in Italia Ancora E che non sono Non stavo già Andando di là Ti prego Mi viene l'ansia Perché poi Devo buttar via Un'altra ora Per rifare Quel giro lì Devo fare Un'hub a Venezia Avere tutte le attività commerciali In una cazzo di città Farla diventare ricca Grassà Sudicia Proprio Come a Prodo del Re Tutta colpa del cigno Sì Siamo ad Ancona Meno male Siamo ad Ancona Avevo già recuperato La birra No Sì Vasellame Fammi lasciar giù Tutta Venezia Ci vogliono un sacco Di bordelli Non c'è problema Facciamo anche quelli Fucking Dai Quello lì È l'esercito Che sta sediando Vienna Poi anche Molta più Prosperity Venezia Devo scaricare Tutto qua Cazzo vuole Cota in dei Cipciac Dai vai dentro in città Per amor di Dio Commercio No che Aspetta Commercio 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 Par di palle Vai alla Scorta segreta Qui abbiamo dentro Un sacco di armi E direi Mi butti dentro Tutta la lana Mi butti dentro Tutto il pellame Tutta la seta grezza Il prodotto Il prodotto finito No Butta dentro I due Questi qua Della cavalleria I datteri a 93 I datteri I datteri possiamo venderli Scusa Cioè Vendiamo fino a 60 Qui abbiamo il grano a 6 Eh però mi da prosperity Avere tanto grano Non voglio indebolire Una mia città Allora Noi Recuperiamo La flotta E andiamo a reclutare Altre variaghe Devo fullare il party 21.000 Miceforo di merda Ciao Ale Che poi onestamente La variaga Però Non ha I normanni Sono forti 108 85 Perché Non è detto No La variaga Ha lo scudo Ce l'ha però Sulla schiena Vedi I normanni Però Da far combattere A terra Secondo me Sono meglio Perché è vero Che hanno una funzione Differente No Prendiamo Prendiamo i normanni Voglio solo vedere Gli italiani Bizantin knight Italian dismounted knight Questi qui Che elmo hanno 108 85 85 52 Vedi Anche questi qua Hanno lo stesso valore Di spada Una mano No Armi una mano Sono meglio i normanni Sono meglio i normanni Quindi andiamo Andiamo in Sicilia E' raro eh Sono rari i normanni Perché ci hanno Proprio due castelli Messi in croce Sono probabilmente Due villaggi Dove reclutare I cavalieri Normanni Quelli appiedati Fanno più male Delle varangiane No ma tranquillo Che l'esercito Ok Non guardare il valore Di cavalleria Perché io sto facendo In modo di reclutare Solo nobili In modo che poi dopo Quando su 177 Avrò 110 cavallerie Di quelle 110 cavallerie Posso fare due gruppi E un gruppo Farlo combattere Appiedato a terra Capito E hanno dei valori Sicuramente più forti A livello di spade Per quanto riguarda Invece Il tiro Sì hai ragione Hai ragione Però a livello di tiro Sto reclutando Soltanto l'elite Ciao Grey Fox Voglio i normanni Voglio i normanni Dov'è a Palermo Sì A Palermo Bolivia45 Un bel business Che però Onestamente 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 Io me le tengo Le olive E apro anche Un bel frantoio Vasellame A 150 Vendiamone un po' Anzi vendilo Fino a 100 Si vendiamo tutto Che è tutto Guadagno netto Quello Datteri Li vendiamo Fino a 35 Abbiamo fatto 4100 Abbiamo l'argilla 9 Comprala tutta Che ci può servire Il pellame A 40 Si acquista Ad Ancona A meno Quanto valgono qua Le pecore Le pecore A 29 A 29 Si comprava Meglio Da là Allora Questo qua Trapani Minchia Solamente Sicilian Sicilian Sono Sono solamente Tre I villaggi Dove possiamo Reclutare I cavalieri Normanni Solamente Tre Sono rarissimi I cavalieri Normanni Prendili Qua non hanno Nobili Minchia Solo due Ci credo Che sono così Forti Sono rarissimi Sono veramente Rari Noi che cosa Abbiamo schillato Chi è che ha schillato Il silenzioso Infascino Vai fatti ingravidare Anche te Vieni Oppure le siciliane Sì sono donne Molto calde Molto calienti Ma noi siamo Già sposati Ed è fedele Noi siamo fedeli Se ci mettiamo Una vita A reclutarli Qua così Però Minchia se sono forti I normanni 81 Minchia Hai voglia Hai voglia Hai voglia A reclutare Qui Allora Chiudi Alcaira Metti Il pallino Qua Ok Jatara Già che siamo qua Guardiamo Quanto costa Qui l'argilla 10 Compra la tutta Che ci serve Facciamo L'ultimo reclutamento Arandazzo Poi il resto Andiamo a prendere Le bizantine O le italiane Aspetta Le italiane Avevamo Avevamo Detto Che questi Avevano 108 85 85 52 52 Possiamo Prendere Anche gli italiani Non solamente I normanni Allora Vediamo a palermo Se hanno Dei mercenari Con balestra Fra Noi ci stiamo Sfamando Adatteri Va Va mica Bene Sta cosa Vai alla taverna Sicilia Ancara Vanguard No Eh ma i genovesi Sono mercenari Noi stiamo Usando La nostra Influenza Per appoggiare Le decisioni Va che arriva John Ayatra Ce la salva Qua prendiamo I italiani John di merda Devi andare Perché non mi aiuti Ayatra Brutto sudicio Eccoli qua L'Italian Comunal Noble Queste balestre Qua In realtà Fanno Un po' schifo Sono Miliziane Sono un po' Sudice C'è però 120 di balestra Non è male Noi potremmo Pensare di prendere Prendiamo anche Sti balestrieri Dai Se no Non ce la caviamo più E qui iniziamo a prendere Balestrieri Un po' schifo Iniziamo a prendere Siamo un po' schifo Un po' schifo Un po' schifo Minchia l'ha presa Però attenzione Perché Sale a 18 non è male Ok abbiamo fullato il party Noi siamo sempre più belli E abbiamo skillato l'equitazione Moglie vieni da me Qua ci sono dei ribelli Dai che devo skillare le truppe appena prese Si sono arresi Bene Se riusciamo a far dar via Iatara A qualcuno Io inizio a raggruppare un esercito Per andare a prendermi Genova Dagli la catacalò Allora io direi le olive le scarichiamo L'argilla No l'argilla dobbiamo darla alla città sotto Io direi tutte queste armi Tirale su No le armi dovevamo smeltarle Le armi dovevamo smeltarle Allora andiamo ad Ancona Lasciamo giù la roba Qui sta arrivando l'esercito di Idris Noi non riusciamo a recuperare l'altro nostro compenio Un cazzo Questi sono tutti eserciti del Ciula Anche riuscire a prendere Verona non sarebbe male Perché produce la seta Verona E infatti se lo pigliano loro Prendetevela voi Che non me ne frega niente Allora entra in magazzino Tu scarichi tutta l'argilla E ti prendi tutto il vasellame Noi dobbiamo stare attenti Eccolo qua Ok abbiamo preso anche l'altro compenion Secondo me possiamo organizzarci per il grande assalto Fammi salvare però Non vorrei che crashasse Succedesse qualcosa Possiamo preparare l'assalto a Genova Secondo me Dobbiamo controllare bene Di noi qui ne abbiamo solamente tre I Catacalon Che sono quelli di Euphobenos Hanno sei feudi Minchia Minchia Anna devi reclutare Dobbiamo far reclutare i nostri compenion Allora io potrei prendere Questi due gruppi Creare il gruppo Con Mario il rapinatore E Andrea il toro Ma David chi cazzo è? Ah era il governatore Perfetto Crea il gruppo anche te E tu Mi fai Ah beh 107 ne prende David Allora quegli altri due Ce li teniamo noi come compenion Da stai leit scout fan veramente schifo Dobbiamo fullare i compenion Dobbiamo fullare i compenion Dove puoi scaricare la Millennium Down per i4 dal workshop di Steam? Oh arriva il Fiatella Arriva il Fiatella Perfetto Sai cosa ti dico ad Ancona? E noi abbiamo questa conceria Zagabria che è un dito in culo Allora Inizio a immagazzinare tutto anche qua Fammi vedere ad Ancona in fortezza la Garrison Qua abbiamo dentro 53 genoese crossbowmen Pigliali tutti Butta giù i milizia crossbowmen 220-72 Capitani Spearman Lei però così ne ha troppe Dai Fiatella Fiatella, vieni anche a te. Dai, vieni, muoviti. Fiatellino? Ehi? Ok. Allora, il Fiatella. Eh, lui ne ha un bel po' qua. Lui ne ha un bel po'. Schirmisher Tag, ma minchia, che schifo di esercito che c'ha questo. Vedi di reclutare, va. Vedi di reclutare. Chi è che sta assediando Roma? Ma sai che quasi, quasi. Sai che quasi, quasi. Sai che quasi, quasi. Perdiamo un sacco di soldi, però. Eh, ma questi li intercettano. Eh, quanti ne hanno, madonna. Quanti ne hanno. A sto punto, appena arriva la gente, io vado secco per Genova. Quanti ne hanno. Quanti ne hanno. Quanti ne hanno. 20 truppe gli mancano 20 truppe direi che potrei dargli cibo per quanto ne abbiamo per un mese iniziamo a muoversi a muoverci verso Genova quello va cittadella della corte torna indietro genova sarà genova sarà piena genova sarà piena di qualsiasi cosa con la quale può essere riempita e invece no e invece no e invece non è strapiena e invece non è strapiena attenzione questo potrebbe essere il colpo gobbo Genova da sola vale molto più della città che abbiamo perso in in Croazia non ci sono nobili dentro qua potrebbe essere il colpo gobbo 29 giorni non abbiamo i soldi porca troia non abbiamo i soldi oi sorry non credo che conosco molto bene non abbiamo i soldi non abbiamo i soldi non abbiamo i soldi questo ha già un po' più di soldi vedi noi con il vasellame possiamo fare dei soldi non abbiamo i soldi Grazie a tutti. Aspetta un attimo. Minchia quante ne hanno. Allora, Brescia. La gente è stupita di quanto Brescia somiglia ai suoi genitori. Da te è decisamente ereditato. Allora, da me sicuramente la socialità. Sempre socialità. E Brescia è un animale sociale. 9.6. Cittadelle delle corte. Minchia, ma sta prendendo tutto lui. Porca puttana. Sta prendendo tutto lui. Sta prendendo. Questo qua che sembra quello lì. The House of the Dragons. Il tizio. Quello lì. Velaryon. Ancora due giorni. Buttatemi giù queste cazzo di mura, per favore. Vì. 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 Dai che abbiamo creato una breccia Mi servono Mi servono le catapulte Dai 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 Buttate giù quella Fammi la cata che assaltiamo Ok Allora salva con nome Dobbiamo buttare giù una catapulta E poi dopo facciamo un bombardamento A tappeto di Genova Eccola qua Fatta Conduci un assalto C'è siamo ragazzi La coesione È solo un numero A Londra È in charge Arrows On my command In factory Move Infantry Archer Putman Dietro 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 Fanterie Non andate a morire Facciamo lavorare gli strumenti d'assedio E il tiro Guardali là Sono tutti sulle mura Perfetto Perfetto La riete La riete La riete La riete La ok Provochiamoli Non abbiamo un minigruppo Siamo già 36 a 0 Come trade Eh ma perché il mare è dall'altra parte Non la vedi la lanterna lì Lanterna Sembra un panettone No 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 Dove cazzo andate voi Non andate contro Porca puttana Che vi fate ammazzare come dei suini Bombardateli Fino alla fine Delle Esatto Voi tiratevi indietro Se avete finito le frecce Cioè non me ne frega niente Adesso devono buttare giù Il portone Una volta che hanno buttato giù Il portone E sfondata La porta interna Loro moriranno E noi inizieremo A mandare dentro Altra roba Allora adesso Dove Dov'è il gruppo Quello più piccolo È il gruppo 3 Qua Voi Perfetto Venite avanti Oh bene Che iniziano a tirare In quell'altra breccia Cazzo che c'è un assembramento Di suini Molto bene Andiamo a provocarli ancora Dove cazzo state andando voi Vediamo se riusciamo a tirarli fuori Questi sono già qui E questo è il gruppo È il gruppo 3 Ok Vediamo se riusciamo a tirarli fuori Solti Solti Infantri Attack Attack Loro Buttman Give him hell Attack 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 Però adesso abbiamo un trade di 104 a 1 Catroia quello cos'è saltato Ma quanto cazzo è saltato quello L'hanno stappato come una bottiglia di champagne Molto bene Oddio cos'ho fatto Perfetto Dilagate 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 Sgozzamento Chi dice che sa che giorno Quel testimone Tutta Gerusalemme Nostro signore E io Quel testimone E' un saraceno Ma in mente C'è la faccia sfondare qua E che le anglo varangiane possono fare veramente male Se abbiamo sfondato di qua Stanno entrando tutti Auguri Qui andiamo a sfondare il portone interno Che adesso abbiamo l'ascia C'è la faccia sfondare il portone interno E' un passaggio Grazie Cosa? No, la nostra catapulta! Ma che cazzo ha fatto? No, la nostra catapulta mi ha rovinato tutto! Perché voi entrate da lì, direi ottimo! Porca! Eh, la catapulta ha centrato in pieno i nostri! Ma che cazzo di imbecille! Qua sono tanti o sbaglio! Dì! Ma che cazzo di iniziale! Eh, la tua cazzo! Ma che cazzo di iniziale! bravo portami portami esattamente alla zona dove vi ritirate che facciamo una strage mentre vi ritirate si con che trade finale? 120 kill 12 perdite direi ottimo peccato per quel colpo della catapulta cioè tutto il nostro esercito ha perso 35 uomini 20 dei quali credo ammazzati da quel colpo sbagliato della catapulta allora facciamo una roba facciamo una roba nobile no mia moglie è mezzo morta prendiamo il toro il rapinato allora aspetta un attimo scottish knight ungarian knight no no allora io devo schillare vabbè senti mandiamoci i nobili il fiatella poi direi mandiamoci dentro polish levy ciao lore grazie mille regala 5 abbonamenti ai ciccioli e mandagli anche levy swordsman e mandagli dentro anche gli zwei under regala un abbonamento ad Alessio Massarenti Francesco Lippi Alessandro Zeta Viga Morte 108 e cardio oh 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 scusami ma io dove sono le vostre mogli che non ciulo da non so quanto tempo qua a Oh Hai rotto il cazzo Ma vuoi morire Ma che cazzo Sti elmi OP Sì Posso saltare giù da qua Voglio suicidarmi per la felicità Ecco Prigionieri tutti Eh volevo fare un suicidio Dalla felicità Cioè madonna Non si può fare mai niente Balestra pesante Leggendaria Questa mi interessa Steel cross su misura Per favore Oh Adesso siamo diventati Clementi Allora E noi qua dobbiamo Vendere un po' di roba Allora io inizierei a vendere Tutta questa roba qua E fare 13.000 Poi andrei Alla taverna Scegli i prigionieri Da riscattare Abbiamo nobili No Vendi tutti i prigionieri E campagna di liberazione Dell'Italia Prima fammi prendere Quello che posso prendere Zio Se no È un disastro qua Allora Noi adesso Sciogliamo Sciogliamo Questo esercito E riprendiamoci Soltanto I nostri Companion Porca troia Madonna Sto euforbenos Di merda Dai Ma che cazzo Però Ma che cazzo Ma che cazzo E l'han data lui L'hanno data L'hanno data lui Ma sta cosa Mi sta facendo Girare veramente I coglioni Però Cioè io ho perso Una città E vanno a darla a lui Cioè Genova C'ha 6.002 Di Di Madonna Vabbè Senti Andiamo a prenderci Verona Che cazzo Vi devo dire Andiamo a prenderci Verona Verona Me la daranno Immagino Minchia Ma vabbè Ma però Porca troia Dai È veramente Ma non ci voglio Credere Ma non ci voglio Credere Con tutta la fatica Che ho fatto Ma sapere Gliela Raziavo Malissimo Quella cazzo Di città E farlo fuori Come farlo fuori Che due Maroni Il problema È che poi dopo A ribellarsi Contro un impero Così forte È dura È È veramente Dura È veramente Dura Iatara Minchia Stanno dando Tutto agli altri Nobili C'è Nel senso Dai Però Dai E noi Da questa guerra Ci abbiamo perso Una città È vero Che ci abbiamo Guadagnato Venezia Che vale Tre volte Quella città Lì Però Sta cosa Inizia Sta cosa Inizia Ad infastidirmi Sta cosa Inizia Veramente Ad infastidirmi Ancona Perde soldi Ancona Perde soldi E direi Anche Che nervoso Ragazzi Non potete Capire Il nervoso Ma non Ce la Daranno Mai Lo stesso Non Ce la Danno Lo stesso Non Ce la Danno Lo stesso Perché Ho già Capito Qua Come L'andazzo Ci sono Troppi Nobili Nell'impero Bizantino Il vero Problema È Quello Ci sono Troppi Nobili Nell'impero Troppi Troppi Nobili Nell'impero Ci sono Ecco Il cazzo Che do via Zagabria Zagabria È alta Di prosperity È ricca Zagabria Sta fungia Allora Quello Che non Mi vogliono Dare Allora A sto Punto Sai che Cosa Faccio Veramente A costo Di Schillare Al 100% L'abilità Di Commercio Io Quella Cazzo Di Città Me La Compro E Devi Soffocare Sotto L'oro Petit Verso Sopra Bastardo Che Nervoso Guarda Che Nervoso Che Nervoso Che Nervoso Queste cose Mi Mandano Veramente In Bestia Eh Ci Servono I Cavalli Ci Servono Un Quantitativo Di Cavalli Da Guerra Spaventoso Perché Se No Non Riusciamo A Far Skillare Le Truppe Questo Vuole Entrare In Guerra Sono Pure Sono Pure Degli Zarri Di Merda Questi Qua Di Alessio Perché Sto Buttando Giù Le Mura Ma Fammele Buttare Giù No Fammele Buttare Giù Le Mura Porca Puttana Invece No Dobbiamo Salire Con Le Torri D'assedio Andate Morite Che Cazzo Vi Devo Dire Tanto Non Reggeranno Mai Loro Non Ne Hanno Abbastanza A Gioco Solo ed Esclusivamente Perché Sono Pieno Di Nobili E Non Voglio Che Che Me Li Faccia Perdere In Modo Schifoso Adesso Non Mi Stupirei Se Le Nostre Catapulte Facessero Un Sacco Di Friendly Fire E Presto Per Una Guerra Di Secessione Ho Tre Città L'impero Arriva Fino Ad Anzica Dove Voglio Andare Non Sono Neanche Non Sono Neanche Il Vassallo Con Più Feudi Perché Ci Ha Sorpassato Il Tizio Quello Lá Che Mi Sembra Adesso Abbia Sei Città Pesante Qua Dobbiamo Iniziare A fare Come i Bolton Iniziare A Scuoiarli Città Trova che se mi ammazzi con un colpo di catapulta urlo veramente. Velocizziamo il lavoro dell'ariete. Cazzo che mi incula. No, vai via. Non è bello, eh. Non è bello. Esatto, Wolfix. Non è neanche da escludere quella possibilità lì. Non è da escludere. Beh, vabbè, però. Questi ci tirano i sassi da sopra. Porca troia, minchia frate le sassate. Finché non muoiono i miei di nobili va sempre bene. Ne abbiamo persi due Italian Noble. Dai, muovetevi, entrate, su. No, 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 no. Adesso vi divertite. Ok. Vieni qua, pezzo di merda. Bastardo. Bastardo. Guarda quanto cazzo corre questo qua. Lo chiamavano pie veloce. Bastardo. Via. Dove vai? Dove vai che ti scuoio e ti ricuoio, guarda. Sudicio bastardo. Sudicio bastardo. Bastardo. Dai, è scappato. Dai, è scappato. Vabbè, i nostri nobili stanno schillando in un modo spaventoso. 76 kill, 3 morti. Siamo il party che ha fatto più kill bene. Questi si sono buttati dietro, ma fammi capire. Qua c'è gente che vola giù. Ma... Oh, vittoria. Vittoria, bianchiuso. 89 a 3. Ottimo, direi. Direi bene. L'abbiamo già fatta la mod sull'impero romano. Il problema è che non è neancora completa. Aspetto che lo sia, perché di vedere che cavolo ne so, i vlandiani insieme ai romani o ai cartaginesi, mi disturba un po'. Ah, vostra maestà, suocero. Non è un'altra figlia. Il triangolo no. Io non l'avevo considerato. Ma noi potremmo andare... Madonna, mi ha rotto veramente il cazzo. Mi ha rotto veramente il cazzo. Anche Verona mi devono portare via. Anche Verona mi devono portare via. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Qua dobbiamo iniziare a capire... Andiamo a iniziare a fare un lavoro di... Porca puttana. Dai, che due maroni. Spero che vi si ribellino tutte. Spero che vi si ribellino tutte. Voglio proprio vedere come cazzo le tenete. Voglio proprio vedere come le tenete. Queste città bastardi. Bastardi. Vai via tu. Vai, Electra. Electra. Interessante. Vabbè. Cazzi vostri. A proposito. Ma ce l'hanno catturato? Eh sì che ce l'hanno catturato. David delle Colline ce l'hanno catturato. Allora, David delle Colline, vieni da me. Probabilmente sto povero Cristo non avrà niente. non avrà armatura, non avrà niente. Questi li hanno massacrati. Che nervoso, che nervoso, che nervoso, che nervoso. Che nervoso. guarda. Che nervoso, guarda. Non potete capire. Eh, ma qui commercio non sale più. Come cazzo faccio a salire a 300? Questo è il discorso. Vabbè, inizia a buttare sulla forgiatura, va. Inizia a buttare sulla forgiatura. Iniziamo, iniziamo a comprare, iniziamo a comprare roba. Mi vai a cagare te la seta grezza, Dio. Besugo. Dio besugo. Alberto è molto insoddisfatto. È estremamente insoddisfatto, Alberto. Perché ha conquistato un castello e una città e non gliele hanno date a lui. Alberto è incazzato come una biscia. Alberto si deve sfogare. Alberto deve andare a quel paese. Allora, vediamo un attimo una roba. In realtà è quasi a 100. Qui non abbiamo problemi di alcun genere. Ergo. Allora, noi iniziamo a fare una cosa. Apri la scorta segreta. Butta dentro sta roba. Apri le armi. Butta dentro sta roba. Questo via. A livello di provviste. Allora. Vasellane, lame, sale. Allora, andiamo qua. Tiriamo su altri vasi. E vado a Novgorod. Vaffanculo a questi qua, questi pezzenti. Che tanto non combatto più per loro. Ma hanno fatto girare i coglioni. Su, dici. Ciao, Rainbow. Hanno osato dare delle città all'Italia. Esatto. Esatto. È questa cosa che mi manda in bestia. Mi fa triggerare moltissimo. Mi fa veramente... Acquista prodotti. Lana 8. Compra. Sale. Poi qui abbiamo la... Questa roba qua. L'argilla. Sale. Compra. Compra. Ciao, baffo. Ehi, baffo senpai, mio signore. Baffetto. Allora, vieni qua. Acquistiamo i prodotti. Chula Pegger. L'argilla 5. Tutta. Molto bene, molto bene. Vai. Ancona. Vediamo se hanno prodotto dei vasi nel mentre che noi facevamo cose. Vino ed olio oppure i datteri... Eh, lo so. Eh, lo so. Eh, lo so. Eh, lo so. Sì, sì. Sì, sì. Verissimo. Verissimo. Palmazian. Allora, io direi... Compra tutta sta argilla. Compra tutta sta lana. Compra dell'aiuta che a questo prezzo non è male. Non di più, però. Compra queste pecore. Adesso. Le pecore. Le abbiamo macellate tutte istantaneamente. E restiamo 112 di carne. Ora, entriamo nel magazzino. Prendiamo tutto questo vasellame. Scarichiamogli l'argilla. Noi abbiamo però bisogno di cavalli. C'è qualcuno che produce cavalli qua? In Sud Italia, forse. No? Nessuno produce gli equini? Allora, vaffanculo. Andiamo a Novgorod. Dove l'abbiamo messa noi la flotta, Fra? Raga, la flotta dov'è? È ancora... Forse è in Puglia. Mi sa che è in Puglia. Noi quanta gente abbiamo perso in queste sedi qua? Un cazzo abbiamo perso. Noi abbiamo perso niente. Noi non abbiamo perso niente. Oppi. Italian Commonwealth. Cittadella e Decorte. Questo dovrebbe essere il castello in Corsica, se non erro. Sì, è quello in Corsica. Oh, ma sta prendendo tutto lui, ragazzi. Ma sta veramente prendendo tutto lui. Ma Manuel? Eh, è un voto perso. È un voto perso, se lo do a lui. Il catalicammello sta monopolizzando tutto il regno. Cioè, raga. C'ha otto feudi questo. Otto! Otto! E continuano a darglieli a lui. Cioè, i comneni, che sono la dinastia regnante, ne hanno tre come noi. Ma si rendono conto di quello che sta succedendo? Ma non lo so com'è possibile una roba del genere. Non lo so. Non lo so. È illegale sta cosa. Io non capisco. Io veramente non capisco. Non posso conquistare Roma. È dell'impero, cioè. No, no, no. Non è un bug. È che semplicemente sono stronzi loro. Sono stronzi. Dovrebbe essere qua, se non erro, la flotta. Se no, se non è lì, in Sicilia. Vediamo. A me sembra che eravamo risaliti. Esatto. Altro che Powerful Vassal DCK3. No, non è qua e allora sarà là. Passa di qua. Ah, vediamo l'argento qua, quanto si può comprare. Abbiamo bisogno di un sacco di soldi. Voglio tappezzare Venezia di botteghe nostre. Se noi riusciamo in una città prospera come Venezia ad avere il monopolio su qualsiasi bene commerciale prodotto. Top. Top. Minerale d'argento 86 si compra. E non ci abbiamo i soldi. Senti, ma vendigli degli straccetti qua. Vendigli tipo, ecco qua. Scuda, goccia, merluzzo. Vai. 400. Vendigli anche due di questi qua. E poi ti darei anche uno di questo. E poi ti do anche questo e ti lascio in mutande. Ok. Perfetto. Bene. Recluta truppe. E scendi giù. Chi ha schillato? Reca. Madonna, Reca è proprio... È governatore di Zagabria, lei. Forma fisica. Ok. E mi aumenti... La leadership. Lana 13. Ok. Lana 13. Sì, dovrebbe essere questo ferry point qua. Credo. Sale qua 31. Te lo puoi mettere dove dico io. Così soffri, bastardo. Pace con i German. Pace fatta con i tedeschi. Meno male. Meno male. Meno male. Meno male. Gli abbiamo dato una rumba. Gli abbiamo dato. Allora, è peggiorato il rapporto con i Comnenos. Con questi a 100, con questi a 87, con questi a 89, con questi a 3, dove sono i Comnenos? Diamo gli supporto a nostro suocero. Se soltanto crepasse noi... Tra l'altro. Tra l'altro. Merda. Ha un figlio, il bastardo. che è John II. E ha 28 anni. Ha un'erede. Merda. Deve morire sto bastardo. Ma che faccia da pirla? Che sembra buono degli U2. Baffo, non posso farlo adesso. Non sono abbastanza forte. Ecco, una cosa che invece potrei fare... È... Il David delle colline. Il David di Michelangelo. Ma il David... Scusa un attimo, eh. Scusa un attimo. Vai dentro a Palermo. Il David mi sa che è nudo. Mi viene da pensare quello. Infatti è proprio insignificante lui. Allora, ti do uno scudo. Ti do... Non abbiamo armi qui, eh. Ti posso dare le scarpe usate di qualcun altro che fanno abbastanza schifo, mio signore. Ma cazzi tu, vai? Per carità, eh. Io potrei denudare uno di questi. Potrei denudare uno di questi. Ma che uomo insignificante che è. Esatto. Ti prendi il tuo scudo. C'hai la tua spada di merda che fa abbastanza ridere. Cavalli. Direi, ti prendo una mezza barda scaglie e ti do... Ma questo è handicappato. Cavallo da sella. Eh, pigliati un cavallo da sella. Sarai... Sarai il cavaliere più insulso del mondo, ma... e ti do anche, ti do anche, ti do anche, ti do anche. Prenditi uno zikuron e una lancia. Non c'è qualcosa che puoi portare a cavallo. Questo puoi portarlo a cavallo. David. Poi vediamo se qua riusciamo a vendere qualcosa. Qua possiamo vendere... Beh, già la carne a 31 non è male. Fino a 25 la vendiamo. Poi direi la seta grezza. Fino a 40. Il pellame lo teniamo. Ti do... Qualche tic di questo. Giusto per avere questa roba... Gratuitamente. O più o meno gratuitamente, insomma. Abbiamo un po'. Il porco costa poco. I suini costano poco qui. Quasi quasi. Margilla 9. No, va bene così. Non è qua. Ma dove cazzo è la nostra flotta, raga? Ciao Francesco. Non è qui. Se può sapere dove cazzo sta. Ma dov'è la nostra flotta? Scusami, eh. Qui non c'era. Lì non c'è. E allora... E allora sarà Dancona, immagino. Suppongo. Supponing. Qua noi dobbiamo comprare cavalli, porca loca. Cioè, se no non riusciamo a schillare le truppe. Quattro mila. Quattro mila. Eh, vedi. Adesso riusciamo a schillare un po' anche questi, se no. Tosta, eh. Quindi adesso noi dobbiamo prendere il cicisbeo qua. Davide le colline. Arrangiati. Recluta. A Venezia, dici? Vabbè, ma David Lambo, David è un po' un sudicio. Cioè, è un po' insignificante come persona. Compra sto legno, va. Non abbiamo i soldi per comprare quel legno lì. Che cosa ti potrei vendere, piccolo bastardo? Ti potrei vendere una balestra pesante. Te lo immagini un po' polano con una balestra pesante. Che adesso recuperiamo altro vasellano. Sì, David è un po' un sudicio. Ciao, Marcus. Come sta il signor Francesco Naim? 290. 290. Quanta roba abbiamo dentro qua? Solo 18 ne avete fatti. Vabbè, ma siete un po' dei sudici. Guarda qua, c'è 490. Vedete di lavorare, bastardi. Sudici. Sta gente qua, insignificante. Vabbè, ma il vasellame in questa città non c'è. Vediamo ne qualcuno. Settagrezza 39. Andiamo fino a 35. Qui oggettivamente. Non è qua. Sarà a Venezia. Allora, io direi, voi mi rallentate. Dunque. Non è qua la flotta. Non è qui la flotta. Non è qui la flotta. Dove cazzo è sta flotta? Porca loca. Dov'è sta flotta? Vendiamo qua. Beh, il legno massello a 81. Fino a 50 lo vendiamo. Qui potremmo prendere del grano. A Tirana? A Tirana? Ma porca puttana. Ma secondo me è a Dancona. Secondo me è a Dancona la flotta. Scusami, è perché a Tirana? Di là siamo andati a far cosa? Noi siamo... Noi siamo finiti a Venezia. Poi eravamo scappati in giù. Siamo andati a fare la tornata di reclutamento qua sotto. Chi è? Ha partorito! Un'altra bambina! Ma basta! Ma basta! Ma basta! Ma basta! Un'altra bambina ha partorito. Ma non ne posso più! Ma non ne... Ma questo è quando hanno 14 anni e divento deficiente! Ah! Oddio! Talia! Questa la chiamiamo Parma! La nostra moglie è squarata dopo 5 figli. Parma! Ragazzi! Io non so! Cioè, ragazzi! 5 figli non li ho mai avuti in nessuna partita di Bannerlord! E 4 pampine! Pampine! Ah! Diventassero adulte poi! Almeno le sfruttiamo! Li facciamo fare gli eserciti! E tutte ste cose qua! Qui non c'è! Vabbè, già che siamo qua! Entra in magazzino! Porta via del vasellame! Qua fu... Sai forse prima perché non ce lo dava? Perché avevamo troppe truppe! E lo so che 4 bambine sarebbero fruttevoli! Ah, come si mangia bene ad Altamura! Come si mangia bene! Compra l'ascietta! Compra il grano per mangiare! Il grano! Poi recluta le truppe! Guarda qua quanta gente! Che abbiamo fullato il party! Meno male! Meno male! Chi ha schillato? David delle colline! In esplorazione! E poi David delle colline! Devi prenderti in tendente! Poi Giovanna Lesule! Che è governatrice di Ancona! E la viandante governatore di Zagabria! In arma a due mani! Utilissimo! Proprio guarda un bijou! E' un po' di tempo che non facciamo la tratta del nord! Ah! Non abbiamo spazio per 12 uomini! Bella sfiga giovanotto! Bella sfiga giovanotto! Allora noi qua comunque non stiamo guadagnando abbastanza soldi! Io direi allora iniziamo a abbassare le spese qui! Ancona! Venezia col cazzo! Venezia col cazzo! Riduciamo! Riduciamo qui! Merda! 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 Una barca mi costa 20.000! Senti! Sai che cosa faccio? Sai che cosa faccio? Scarto! Scarto! Questo milizio a crossbowman e scarto i genovesi! Che tanto quelle sottruppe comunali! Set sail finalmente! Allora ok! Iniziamo il lungo viaggio! Iniziamo il lungo viaggio! Andiamo a bruciargli la casa! Il furore di laga in città! In città! In città! In città! Eh non solo il pane è buono! In Puglia si magna bene! Altro che... L'Irlanda è morta! L'Irlanda è morta! L'Irlanda è morta! Aiuta! Poi potremmo vendere... Un cazzo! Qua c'è il pesce a quattro! E il pesce a quattro fra è buono! Il pesce qua bisognerebbe cavar fuori 7600! 7600! Hai voglia cavarli fuori! 3009! Potremmo vendere un po' di legno massello! Fino a 30 è venduto bene! La carne a 49 è venduta molto bene! Che cazzo ho fatto qua? No aspetta 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 aspetta! Fino a 30! Anche le olive a 16 non è malaccio eh! Però il pesce a quattro si compra assolutamente! E direi andiamo a fare fulfillment con quello... Anche i datteri a 19 non sono male! Non più di 20 però il dattero! Via! Io eviterei Cagliari che è in mano ai maiali dell'impero! Minchia 2.2! Siamo stracarichi! Siamo stracarichi! Allora fai una cosa! Vediamo se a Cagliari vogliono il pesce! Iniziamo a liberarci di un po' di pesce comprato a 4! Ma che indipendente! Abbiamo perso una città! Ci stanno massacrando! Ci stanno massacrando! Eh già qua il pesce a 7! Il 7 lo vendo! La carne a 49 si può vendere fino a 40! Il vasellame Fino a 147! La seta grezza fino a 40! Il legno fino a 40! Sale fino a 40! Via! Andiamo ad Algeri! Andiamo ad Algeri! Quanto guadagniamo di base? Perdiamo soldi! Spese e laboratorio! Però noi potremmo andare a settare... Qui abbiamo 92 di cuoio ragazzi! 92 di cuoio sono soldi eh! Noi potremmo andare lì a recuperare quei 92 di cuoio! Da vendere! Cazzo se possiamo andare a Zagabria! Però lì continuiamo... Continuiamo ad accumulare il cuoio! Continuiamo ad accumulare il cuoio mio signore! Vuoi andare ad Alghero? Aspetta, dov'è Alghero? Voglio andare ad Alghero! In compagnia di uno straniero! Poi direi... Allora possiamo vendere del vasellame fino a 160! Minerale d'argento... Qualcosina... Carne a 45! La possiamo vendere... Fino a 35! Legno massiccio fino a 40! Lana pesce un cazzo! Grano a 8! Non è un prezzo ottimale! È un prezzo da consumo quello lì! Non è tanto un pezzo per... Non è un prezzo da scalper ecco! Noi dobbiamo essere scalper mio signore! Dobbiamo essere scalper! Andiamo a Rabat! Ma in Spagna qua la situa com'è? Sono rinati gli spagnoli! No, qua ci stanno gli Mazzigan! Ah no, sono Almoravidi! Eh, vedi? Madonna! La Spagna è completamente muslim, raga! Incubo! L'Opeish! L'Opeish! Dobbiamo fare una tornata commerciale nel mare del nord da almeno 100.000 Ducati! Di profitto generale, eh! Calcoliamo da adesso! Noi partiamo da adesso con 15.500! Con 15.500! 5.500! Grazie. Andiamo a Siviglia. E poi con i soldi lì dobbiamo reinvestire tutti quanti comprando tutti i workshop di Venezia. Marco il silenzioso ha iniziato a parlare. Marco il silenzioso è un ciccio pasticcio qua, ok. Sta benissimo, sta benone il Tommy, sta veramente bene. No, è un fiore, un fiuff. Uff, sale 90. Vendiamo fino a 60. La lana a 75, la vendiamo fino a 40. Legno massello a 71, lo vendiamo tutto. Datteria 46 ce li togliamo. Il pesce a 22, eccolo qua. Vendiamo fino a 12. Io sono bastardo. Devo non pagarlo. Vedete il velluto? Il cuoio. Il cuoio. Cioè raga, il cuoio. Ne abbiamo un quantitativo spaventoso noi di cuoio a Zagabria. Però ne abbiamo veramente tanto di pesce. Secondo me fino a 8 possiamo venderlo. Ed è un per due. Poi andiamo a Lisbona. Castor è di là che dorme. Il problema è che c'è il limite. Non è proprio così. Noi potremmo comprare un bagla. Mettila nella concommercio. Compriamo un bagla. Per aumentare la capienza. Madonna il Vesellama, 201, molto bene. Il sale a 119. Lo vendiamo fino a 80. Le olive a 55 le vendiamo fino a 40. I datteri anche questi li vendiamo fino a 50. La carne la vendiamo fino a 40. Il pesce a 19. Lo vendiamo fino a 12. Producono qualcosa di interessante qua o no? Fan finta. Fanno finta. Santiago. Ci siamo già ripagati la nave. Ma che adesso andiamo a 9.2 di velocità, raga? Che spettacolo. Che spettacolo andare a 9 di velocità. Pellame a 281. Molto bene. Argento. La lana a 120. Fino a 35. Il sale a 109. Fino a 80. Il pesce a 43. Via. E qua producono qualcosa o fanno finta? Fanno finta. Il lino a 21. Ma questa roba qua però secondo me la troviamo in Britannia. Andiamo verso Bordeaux. Chi cazzo sono i Poles? Grinez do Castel. Vabbè ma sono dei plebei. Vabbè chi se ne frega. Fafate lì. Che s'arrangino. Che se la sbrighino l'oro. Io guadagno molti più soldi a fare queste cose qua che a prendere i vostri castelli sudici insignificanti. E quanto mi manca per la skill in commercio? Mi manca... Eccola qua. Eccola qua. Meno 15% di oro richiesto per convincere i signori a unirsi alla tua fazione. Più 15% accordi commerciali migliori offerti da carovani abitanti dei villaggi. Più 0.1 interessi giornalieri sul tuo patrimonio attuale in denari fino ad un massimo di mille denari. Più 20% effetto dell'accelerazione di progetti nell'insediamento che governi. E questa non è male. Primavera d'oro. Minchia la lana 158. Minchia la lana 158. Qui abbiamo l'argilla a 7 che non è malaccio. Gli attrezzi a 67 che non sono male. Compriamo tutto. L'aiuta fino a 90. E' altina ma può andar bene. Andiamo a Nantes. Nantes di solito si compra il vino. Sì, ma con la Polonia. La Polonia, ragazzi, è un salume. Cioè, nel senso, non esiste più. Non esiste più. E' stata brutalizzata da diverse guerre. Abbiamo la birra 45 che non è malaccio. Non c'è il vino. Non hanno più vino. Pesce l'abbiamo venduto tutto noi. No, ne abbiamo ancora. Olive a 16 non è malaccio. Fino a 18 compriamo. Andiamo in Irlanda a Dublino. Chi è che l'ha conquistata a Dublino? I francesi. Bastardi. Madonna, anche i francesi, raga. Sono enormi. Hanno soggiogato praticamente tutti gli inglesi. Anche Pembroke. E' francese anche Pembroke. Che è successo? Ah, avrò trovato un... Eh, infatti, un hideout. Quindi direi vendiamo anche questi... Fermati già, Pembroke. Cremona ha raggiunto l'età di 5 anni. Cremona era abbastanza grande per giocare da sola con gli altri ragazzi delle... Ehi, 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 ehi. Aspetta. Parliamolo. In particolare ti capisce come prende il comando, Beh, così mi sembra un po' una piccola Mussolina. Non si stanca mai. Raggiunge sempre il suo obiettivo. E' affascinata dagli indovinelli. Vince gli incontri di lotta. Evita le mansioni. No, te, vami a fare ingegneria. Cremona passa molto tempo per suo conto spesso a curare i cavalli, sì. Cioè, questa bambina qua, ok, ha già 165 di fascino, 176 di leadership e 153, 193 di medicina. Cioè, un cerusico, sta bambina qua, a 5 anni. Fa... Quando gioca al dottore, squarta i suoi compagni, perché lei è medico. Eh, allora, figa. Ma qui già abbiamo i datteri che si vendono discretamente bene. il pesce a 21, direi che è ottimo. Fino a 12 vendiamo. Il grano a 15. Fino a 12 vendiamo. Che cosa possiamo comprare qua? Abbiamo il legno massello. Abbiamo l'argilla a 5. Gli attrezzi a 60. Pelliccia a 61. Seriously? Gioielli a 141. Pezzi di velluto a 128. Quella. Quella. Però io sono un po' come dire... non voglio darti dei soldi, voglio portarti via le merci. Vendiamo del vasellame. Ecco. Devo essere sempre inattivo. Sono un sacco di soldi quelle pellicce lì, eh. C'era l'argento a 37? Scusa? What? No. Minchia, l'argento a 37? No. 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 Yeah. No. 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 Grazie. Glasgow. Qua c'è una città. Kirkwall. Mi immagino il Dic che si illumina il supermercato. Uva a 23. Minchia d'Antiochia a 115 la vendi l'uva. Ma veramente. Vino a 106 non è mica male. Maiale a 16. Compra tutto. Compra tutto il porcello lì. Il porcellamento. Maiale però non credo che ti dia pellame. Voglio capire se dal villaggio direttamente posso comprare il porcello. Non voglio spostarmi oltre perché siamo veramente stracarichi per andare a piedi raga. Però se riusciamo a portarci via dell'uva a poco sarebbe il top. L'uva è rarissima. Vabbè a 27 però prezzo bloccato. Non male direi. E' che poi dopo potremmo produrre vino. Potremmo fare una vineria. Ritorno a Pembroke. Torneo per chiudere la serata in bellezza. Ma magari lo facciamo nel mare del nord il torneo. Fatemi arrivare di là. Fatemi arrivare di là. Pelliccia 72 ragazzi. Ma raga ma qui le pellicce non costano un cazzo. Non costano un cazzo. Andiamo a Parigi. Andiamo dai. Se c'è il torneo a Parigi chiudiamo a Parigi. Con cui ho i rapporti sotto i 50 punti. Vabbè li correggiamo. 95 rapporto 20. Andiamo a supporto. C'è il gioiello a 795. Madonna. Madonna. Il vino a 243. Il pezzo di merda. Il pezzo di velluto qui. Poi. Pelliccia bassina. Questi qui sono venduti bene. Li vendiamo fino a 120. La lana la possiamo vendere fino a 50. Abbiamo fatto 15.000. La carne quanto vale qua? Qua. 44. Beh. 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 Dove sono i suini? Aspetta un attimo. Devo macellare un po' di maiali. Come inflazionare il mercato della carne. E fino a 30 vendiamo. Pa, 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 pa. Vino 158 Il pesce a 12 Andiamo fino a 9 Che ci dà margine Il lino parrebbe Attrezzi a 66 L'aiuta a 70 C'hanno animali qua Maiali a 21 compra Allora adesso dobbiamo andare Nel grande porto di Hamburgo Che cazzo è successo? Io non voto a nessuno Io non voto più a nessuno Mi astengo sempre Adesso vaffanbagno Chi è che ci ha dichiarato guerra? Cazzo 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 Merda Eh fra Non possiamo più andare ad Hamburgo Dobbiamo tornare giù Minchia i crucchi ci hanno dichiarato guerra Cazzo Venezia Ah no Venezia è già al massimo Eh io direi Alza la guarnigione Di Zagabria Il grande Carlo Il tessitore di lana Chi è che non ha un amico Che tesse lana Come hobby Alla guarnigione Mendiamo della carne Mendiamo del grano fino a 12 Qua si può comprare Lupeche e basta La birra 44 Comprala tutta Sì però non è detto Che se arriviamo a Lisbona Il prezzo della lana sia ancora quello Capito? Perché nel mentre passano le carovane Ho un Askarat 11.000 Voi siete malati nel cervello Madonna quanto cazzo abbiamo marginato Abbiamo marginato un'esagerazione E li facciamo 100.000 Li facciamo sì 100.000 Questi bastardi ce li hanno già reclutati Volevo toglierglieli Carne a 188 Iuta a 177 Attrezzi a 142 Quindi Grazie. Eh, hai visto? Basta che mi fate... No, ma 500 non lo vendo il gioiello, piuttosto me lo tengo. I gioielli li vendo quando li trovo a 700, 800. E' un gioiello. Noi siamo opulenti. Chi cazzo ha schillato? Scusami, non capisco. Anna, nostra moglie. Nostra moglie deve essere bellissima, mio signore. E' già il pezzo di velluto a 400, uno lo vendiamo. L'aiuta fino a 200. Poi vendiamo le pellicce, non sotto il 200. Gli attrezzi, non sotto il 130. Il legno massello a 90 è un buon affare, lo vendiamo fino a 50. La carne a 35 non ne vale la pena, potremmo vendere delle olive fino a 50. E vendiamo dei porci fino a 40. La lana possiamo venderla tutta. Maria Siviglia. I nostri centomila tanto acclamati li abbiamo fatti. Ops, assaltano Genova. I zizzoli. I zizzoli assaltano Genova. Eh, mi dispiace. Basta che non mi portano via Venezia perché urlo come uno sesso. Ops, assaltano Genova. i nostri 100.000 li abbiamo fatti ecco vedi già gioiello 800 pelliccia 600 attrezzi a 400 velluto a 347 vendiamo due giusto perché ci stanno facendo marginare tanto non vi dovete far prendere dalla foga la carne a 63 vendiamola tutta e facciamo 21 qui si possono prendere i datteri forse olive e datteri olio a 63 anzi no fai il giro da Valencia che all'andata non ci siamo passati eh ve l'ho detto l'unica cosa è che dovete essere un po' un po' rabbi quando fate ste cose qua perché non fatevi eh ma ecco quello lo vendi a 400 no capito ma devi venderlo a 800 qua forse riusciamo a comprare uva legno datteri burro a 4 formaggio a 5 datteri a 6 li compro tutti madonna quanti soldi uva a 20 legno massiccio a 7 pellame a 15 non è male eh sale a 15 è un affarone attrezze a 47 sono un affarone il vino a 55 è un affarone il maiale a 12 minchia se è un affare questo paghiamo 20.000 non è un problema l'unica cosa è che se stia aspetta fammi vedere innanzitutto cazzo a Genova hanno vinto loro eh eh questa qua questa qua formaggio a 81 vendiamo fino a 30 la carne quanto vale non lo sappiamo quanto vale la carne 27 poco 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 è poco è poco è poco è poco è poco non vendiamo un cazzo qua mettiamo tutto quanto in stock e vendiamo in un secondo momento perché stanno assediando Verona quelli vanno a Venezia il vino a 291 gli attrezzi vai a Tunisi che giro fai per andare a Tunisi costeggi no facciamo facciamo Napoli e noi dobbiamo andare ad Ancona e noi dobbiamo andare Palermo e ritorniamo su nell'Adriatico perché se andiamo via terra siamo troppo lenti George, Michael e Taktitos cazzi loro arrangiatevi è che stanno iniziando a dare feudi anche a questi plebei qua che va bene quanto ha Venezia di Garrison 428 428 birra olive aiuta maialino l'abbiamo schillato in intendente grazie 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 sono tutti impegnati porca troia tutti impegnati tutti impegnati merda non posso dargli la perk dobbiamo scaricare ad Ancona tutta la merce non posso correre il rischio questi adesso mi vanno a Venezia è caduto è caduto Verona Castor mi sa capienza superata minchia fra allora balestra leggendaria aspetta prima fammi andare al mercato andiamo a Venezia prima fammi in fortezza Garrison tiriamo su delle balestre e Venezia è più protetta allora qui in scorta segreta ne abbiamo abbiamo un bordello di roba allora fammi vedere prima il mercato è più protettivo è più protettivo riforniamola per bene di cibo che così se capita un assedio siamo a posto grano ne hanno da buttare via adesso vai in fortezza scorta segreta e inizia a buttare giù i 55 maiali il sale il pellame il legno massello l'argilla l'olio il vino le pellicce i pezzi di velluto il vasellame i gioielli i datteri questi ce li possiamo ottenere io butterei giù anche i muli così non abbiamo bonus mandria andiamo in taverna vendiamo tutti questi tranne l'italian come un nobel i genovesi ok torno al centro della città adesso noi dobbiamo riuscire in qualche modo a recuperare i nostri companion e lì sono lì a nord andiamo dentro nelle terre la flotta ragazzi è ad ancona o a venezia mettiamo il pallino a venezia praga momento delle elezioni che la danno a Giorgio come faccio a richiamare i miei companion non posso richiamarli perché sono in un esercito vedi è quello il fatto non li posso chiamare però posso investire a venezia ma chi cazzo è Simone Ossobollito ma che schifo ma sudicio io devo aspettare che qualcuno si liberi per iniziare a prendere roba allora fai una passeggiata per il centro dunque allora le attività più profittevoli in assoluto per quello che ho visto io il vino è rarissimo il problema è che comprare l'uva a basso costo è altrettanto difficile io aprirei onestamente un gioielliere una velluteria sicuramente e là c'è la vineria un conciatore non sarebbe male ci fa le pellice e andiamo un po' minchia zia cosa martelli madonna se è grossa Venezia ragazzi è enorme devi sciogliere l'influenza però perdo relazioni e no non posso permettermi di perdere relazioni che combattano per loro prima o poi moriranno non è allora abbiamo preso questo poi io vorrei vorrei fare vorrei fare la gioielleria che andremo a prendere l'argento e creeremo dei gioiali bellissimi e la lineria la la velluteria devo scavare i canali ma no ma che schifo i canali mio signore poi c'è l'acqua che puzza andrea il toro che cazzo fa i balli cretino rosalia la rognosa questa birreria non sarà più una birreria poi lo cambieremo poi lo cambieremo poi voglio andare a comprare anche quell'altro anche quell'altro negozio di là poi ci costerà soldi convertirli ma meno quello lì che produce vino possiamo valutare nel tempo se farlo meno perché tanto ho visto che un carico comunque ti dura tantissimo ho visto quello lì dell'argilla per produrre i cosi che abbiamo giù ad Ancona 300 di argilla ti durano una vita e l'abbiamo comprate tutte e tre non ricavo introditi dal workshop perché non sto facendo vendere niente ok non sto facendo vendere nulla merci nel magazzino 100% 100% 100% noi abbiamo anche una conceria Zagabria allora questo birrificio di merda produzione indumenti allora la velluteria la voglio assolutamente la conceria ce l'abbiamo a Zagabria io voglio che tu mi fai un argentiere cioè a Zagabria abbiamo dentro 154 di di roba velluteria torchio argentiere ceramica perfetto noi abbiamo ancora 64.000 no è una mod l'ore è una mod è una mod perfetto non so se poi quella cosa lì è stata implementata anche nel vanilla perché è tantissimo che non lo gioco in vanilla ok questi stanno attaccando città della corte sono andati lì e noi abbiamo bisogno di di uomini andiamo a recuperare il cuoio questi stanno prendendo troppi troppa roba troppa 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 roba sono troppo ricchi abbiamo trovato un hideout nelle nostre terre dobbiamo andare a prenderlo e questo no questi no questi no allora prendiamo il nuovo il comune e via la mod quella sul giappone si l'ho vista ma è già completa è già fuori che mi piacerebbe provarla anche se non sono un grande amante del giappone però tutto ciò che riguarda bannerlord a me mi attizza a me a me a me a me a me tirate a me no io non vi devo uccidere io vi devono uccidere loro devono skillare bravissimi bravissimi dai ammazzatevi su veloci ne mancano due perfetto aia 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 lui potrebbe essere rognoso perfetto il largo lungo lungo delle vacche un po' di roba lì il largo costa un sacco di soldi però è l'armatura di cuoio borchiata ecco direi che questa qui te la potresti prendere te visto che sei improponibile mamma mia che barbone che è questo raga mamma mia che barbone andiamo a zagabria allora nostra moglie torna da noi almeno magari facciamo un bambino lo chiamiamo Emilio no dobbiamo chiamarlo Giosuè dobbiamo chiamarlo ciao Nate buonanotte noi andiamo avanti fino a luna ragazzi c'è guardate qua 216 di cuoio 216 di cuoio 216 di cuoio sono un sacco di soldi ah allora per fare le pellizze bisogna fare quello degli indumenti beh qua qualcuno di gente c'è qualcuno qua che 5 7 sono un po' pochini sono un po' pochini però me li prendo non voglio rischiare non voglio rischiare il patatrac qui il cuoio vale un cazzo possiamo prendere del pesce a 5 per le truppe più che altro legno massello a 4 non è affatto male lasci vivo per pietà io gliene darei ancora di più Michele perché è improponibile è veramente improponibile facciamo delle facciamo dei reclutamenti qua per i nostri parti non abbiamo abbastanza abbastanza influenza e questi sbarcheranno in Italia adesso allora va in fortezza va in scorta segreta buttagli dentro buttagli dentro il cuoio ci servono ci servono un quantitativo di cavalli spaventosi madonna attendi non possiamo permetterci se vanno ad attaccare Yatara noi potremmo ingaggiarli David delle colline ha schillato allora noi abbiamo schillato ad arma ad una mano loro sono i novecento comunque che si incastra ma che si incastra gli prendiamo un nobile immaginate comandare una turma di cavalleria da 279 cavallo e e voce forward soldiers for must guard Ciao, non ci sono più, è stato bello oh, ma porca troia, questo voglio vedere io voglio vedere se riesco a ucciderli senza... ecco no, infatti volevo dire se riusciamo a ammazzarli senza perdere un uomo invece ne abbiamo perso uno non noi però Ciao, Lord Leopold, basta mi arrendo beh allora questi li prendo, questi li prendo prendi anche questo grazie a tutti e noi 800 uomini bella domanda ma l'altro esercito dove cazzo sta andando? Perché adesso mi devo mettere in difesa io perché i bastardi non verranno certo ad aiutarci mi servono cavalli se no non posso skillare le mie truppe eh, ma non ci vengono a Venezia, l'hanno ignorata prima perché ha troppa garrison e quello è il fatto mi stanno andando a Praga recuperiamo anche David delle colline e io proverei ad andare ancora a Genova ok, i nostri eserciti stanno... Fiatella cazzo, il Fiatella c'ha meno del 40% di uomini bastardo eh no, mi serve mi serve questa roba qua questa coesione qua la prende Giorgia e adesso sai che comunque i nostri nobili cioè guardate quanti ce ne sono che hanno più roba di noi, scusami secondo me potrebbero anche darcela eh Leopoldo col cazzo stai con me salva hai ragione 103 uomini e lo so però vedi poi dopo metti caso che il mio voto serve per avere la decisione definitiva o devo alzare la coesione non ce li ho mica questo deficiente non riesce a reclutare un cretino non hanno uomini questi questi qui non hanno uomini non ce n'è è enough Quattro giorni. Busta un po' la coesione e noi iniziamo a recuperarne un po'. Che cazzo è donato? Ci sono tanti i nobili qua, dobbiamo stare attenti. Governatore di Zagabria, pigliati leadership, sì ma non schilla un cazzo quella cretina. Leopoldo è fuggito. Cazzo è un po' la coesione e lebo, che spiegato le posto dell'asiglia. A cui si chiudete, deve lasciare un po' la coesione e Nyindrò che la crea. Il possiamo fare un po' la coesione e un po' di meno. Se va accorre sull'anima, è sempre un po' di meno. Si deve essere un po' di meno. edricka. Ci sono un po' di meno. Per 58. Per 50. Per 50. Per 50. Per 60. Per 50. e che qua appena appena brecciamo entriamo dentro gli entro proprio nel culo diretto c'hanno dentro dei pezzenti c'hanno dentro allora Verona ha raggiunto l'età di 5 anni prende il comando scontri simulati buonasera Prati dai 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 buttate giù buttate giù sta roba buttate giù brecciatemi le mura dai che non voglio sprecare per la coesione attacchiamo una breccia sola dentro attacchiamo 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 Sì, non è vero. Oh bravi che così li prendete tutti quanti nella schiena Oh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cioè, madonna, quanto ci mettono ad entrare? Sono tantissimi, raga. Sono tantissimi. Sono tantissimi. Sono tantissimi. Sono tantissimi. Sono tantissimi. Sono tantissimi. Fate lavorare solamente i fanti, voi costate qua. Grazie a tutti. Disintegrati Mi buttano anche giù Sono talmente Bastardo Stronzo Dai Vittoria Su Mancano quattro Qua Quando ci sono queste calche Sono più gli uomini Tuoi Che muoiono Perché vengono buttati giù Dalle mura Che altro Molto bene Aspetta Fai così Non reclutare niente che mi serve Fa il saccheggio bene 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 Adesso sciogli l'esercito prenditi solamente lei la nostra mogliettina vai a Verona oh porca puttana ma che due coglioni però ma che due coglioni ma non ce la danno mai non ce la danno mai nella vita e perché l'ho presa con il manico e non di taglio e il problema di quelle armi lì Samu è proprio quello lì porca puttana non ci danno mai le cose va 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 in mano a lui eh vabbè che sono finché sono i quelli lì va bene guardate quanti ne ho persi Dio affanculo stronzi io perdo uomini per la gloria dell'impero ma va affanculo va adesso la ranizza che è successo cosa è successo sono partite un sacco di notifiche che cosa è successo che cosa è successo hai preso una balestra una balestra eccezionale la balestra pesante eccelsa bella la balestra pesante eccelsa mi piace molto mi è successo qualcosa che sento i rumori delle notifiche ma ho bs mi sa che è rincoglionito e non mi sta dando nulla come è successo spada ad armi in ferro arrugginita fammi vedere ordina per valore blocca tutta sta roba qua ecco sto poveraccio qui spada ad armi medievale dagli almeno il farsetto pesante almeno sembra un po' più un po' più decente poi diamogli uno scudo migliore ma qualcuno ha donato degli abbonamenti ragazzi e non mi da sai che non mi da non mi da il la notifica io ringrazio tutti quelli che si sono abbonati ragazzuoli purtroppo è andato in palla mi sa o bs perché sento il rumore delle notifiche ma non vedo che cosa è successo grazie comunque ragazzuoli apprezzo moltissimo cicciuli sempre generosi che sostengono la community e a questo non c'ho non c'ho però un elmo da dargli ma questo non è che magari questo è buono dagli a lui e dagli anche dagli anche lead largo che dà un po' di roba spada da darmi in ferro equilibrata è impazzito è impazzito il è impazzito tutto qua qua è impazzito tutto proviamo ad andare a nizza così magari alla volta buona ti prego almeno verona me la vuoi dare ma vai ma dai ragazzi però adesso oggettivamente oggettivamente io non lo so io non lo so cioè ci ho lasciato giù anche un sacco di uomini per sti sudici di merda dai ma non ci voglio credere ma su via ma su via cioè ma dai che palle però quando fanno così i nobili mi urta terribilmente mi urta terribilmente ma i rapporti sono scusami eh allora coi comnenos sono a 100 coi duques sono a 22 supportiamo che vi devo dire certo ah certo che ho rapporti buoni non capisco sono proprio i sudici sono dei sudici di merda non mi vogliono dare sta roba senti vai a prendere vai a prendere il castello di Nizza qua che poi non è Nizza lì ma va bene allo stesso facciamo finta che è Nizza da me il Fiatella si deve muovere però lo castro il Fiatella il Fiatella lo castro gli taglio le palle le appendo sulle porte di Venezia su di ciò che non sei altro fammeli comprare qua è un'ingiustizia l'erban dai Fiatella però quanto ci metti a reclutare degli uomini con tutti i soldi che ti do con tutti i soldi che ti do fascino siamo sempre più belli ragazzi però questo solo se sono governatore questo invece potrebbe darmi David dalle colline questo è un rimbambito ma Fiatella è un rincoglionito sti sudici disgraziati eh niente quello c'ha sempre 40 uomini del manga aspetta che voglio un dolcino mio signore il bounty il bounty è il bounty di che goloso mio signore staccano ambraskasto ambraskasto perché perché metti che per assurdo durante il trade tu rimani con una catapulta e loro ne hanno due e non hai brecciato le mura e ti arriva da dietro un esercito di 500 600 o 1000 uomini nemici se tu non hai gli strumenti d'assedio devi salire con le scale se invece tu gli strumenti d'assedio li hai piuttosto che perdere l'esercito tenti l'assedio la disperata con le torri è un bounty innocente ci si addormenta per metabolismo attivo ragazzi è sabato se vado a dormire per le tre va bene figurati stamattina poi mi sono svegliato tardi mi sono svegliato per le dieci e mezzo quindi puoi immaginare sono iperattivo il cocco fa male ma andate a cagare ma che palle che siete voi il cocco fa male lo speck fa male gli insaccati fanno male il formaggio fa male ma scolta francoppio digli qualcosa per favore meno male ad aberto che mi piacciono anche lui i bounty ho capito però va bene tutto toccandosi facendo le corna gli scongiuri touch wood tocchiamo ferro anche però volete un dick sorridente o volete un dick triste porco di menelao è fuggito da venezia iniziamo a sostituire questi ma cos'è che non riescono a costruire scusa fai pace con polis ma sto cazzo fai pace ma vaffanculo lo decido io quando faccio pace no non è grazie pio siete stronzi però a volte guardate che siete terribili non va mai bene niente qualsiasi cosa che faccio non va bene e poi giustamente mi dirsi dick ma qualsiasi cosa che fai non va bene non fa bene fa male io sono un edonista forse abbiamo in prima linea i nobili facciamo anche poche perdite ma vedi e ti piacciono le crostate ma non lo so io ma ragazzi cioè che senso ormai sono anche un po' rotto le palle di dover vivere a stecchetto ho fatto una vita e quando dico una vita intendo una vita perché ho 39 anni in almeno 25 di questi ho sempre fatto sport ad alti livelli ed essere perennemente a stecchetto perennemente controllato ed ero in sempre perennemente incazzato già c'è un carattere di mio che sono fumantino che poi mi costringi ad assumere zero carbo e tonnellate di proteine divento veramente sclerotico giusto Alberto mi sembra più che ovvio c'è ma qua io vorrei capire ma ce la fate ad entrare o ma dove sta andando sto ariete cioè deve andare veramente lì sopra ma non ce la caviamo più mo mi spiattellano con un con un colpo di catapulta dai prendo sta città qua poi vi prometto che ci fermiamo se no poi dopo voi vi arrabbiate perché Dick fai le live troppo lunghe eh puttana Eva su con i like eh su con i like e mi raccomando lasciate tutti quanti un commento che nella scorsa live avete commentato in pochi per voi è gratis oddio questo qua mi vuole inculare vai via 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 fuggi sciocco vogliamo un Dick vivo tanto prima o poi prima o poi ecco questo aprici la porta imbecille grazie boh andate voi sono annoiato non voglio andare a seguire qui quattro playbay che ci sono sotto aspetta voglio fare il salto della fede e suicidarmi ce la facciamo no siamo talmente grassi che non riusciamo a saltare sopra queste botti da qui lo possiamo fare non riusciamo ad ucciderci vedete la differenza con i nobili comunque rispetto alle truppe normali siamo op ne mancano ancora 52 dov'è che stanno combattendo in quella strettoia là carnaio stiamo facendo ma è complesso questo questo castello è già il secondo ariete che prova in chiappet che vi devo dire ma è un labirinto questa questo che bello questo castello comunque mi piace tanto spoiler non ce lo daranno a noi oh gli equini saccheggia abbiamo cacciato l'impero no manca il castello di Savoia e poi l'impero quello sacro quello fake ma facciamo pace usiamo questa occasione per fare ma tutto a George danno ma andate a cagare dai è un'ingiustizia è un'ingiustizia vabbè allora fammi riprendere quell'altro che nel mentre non è riuscito a raccattare dieci uomini letteralmente è un ritardato no i prodotti si vabbè ascolta produci legno me lo vendi a 60 e passa puoi anche infilartelo dove dico io il legno fatemi prendere questi quattro nobili che ci mancano ma l'avete fatta sta pace non l'hanno fatta la pace ma abbiamo votato no George dal nulla è diventato uno con più feudi in assoluto vabbè io io non mi capacito queste truppe italiane sono cazzutissime comunque ah era coi polacchi ah vabbè allora che palle ma do Samu però che palle cioè dai a noi non ci danno mai niente secondo me è per un discorso politico perché qua bisogna mettere il simbolo della lega se no non capiscono chi siamo non hanno ben capito eh lega nerd per l'indipendenza dell'Italia da quando abbiamo cambiato il simbolo ragazzi non ce n'è andata una dritta con quel leoncino lì stupido di Venezia ce li abbiamo qua dei nobili è un ospitaliera insulso hungarian knight 178 prendiamoci anche degli heavy crossbowman va almeno qua è fullata il leoncino di marco antonio vero uguale è vero salvo che cosa ti sei perso ti sei perso ti sei perso una maratona del saturday night live ti sei perso ti sei perso tutto bannaia oh finalmente vieni qua ma noi solo questi possiamo fare può anche essere un fatto di zona geografica dato che con la mappa normale mi davano tutti i castelli di città conquistavo degli aserai e ero l'impero occidentale vero 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 può essere può essere un discorso proprio a livello di modding che è sballata però queste qua sono città di cultura italiana noi siamo italiani sono pure tutte confinanti con venezia io dico cioè va bene tutto però dopo un po' Anna do you love me cavalli di arenicos muli di arenicos cazzo è arenicos lo so solo lui questo qua va in leadership va va ci aggiriamo così reclutano loro potremmo farci bottino però eh eri a una serata anni 90 la prego mi capisce si la capisco la capisco è la serata anni 90 mio signore maracaibo balla barracù no quella è un po' più quella è un po' più un revival e niente non facciamo in tempo ad arrivare diamo le truppe qua così facciamo rapporti con loro thanks for your help straight with dismounted tight l'imperial ritter li voglio caghiamo fuori qualcos'altro piuttosto tipo queste italiane levi che fanno schifo queste frankish levi che fanno schifo e ci prendiamo da merda prendiamo niente limite superato di cosa di prigioni dai via dai via dai via dai via dai via milizia spirman che fa schifo li ho visti li ho visti gli 800 uomini accanto e infatti adesso scappo potremmo aiutarli è la battaglia della buonanotte minchia ma quanta cavana ma dove scazzo sono i nostri alleati e kill them all soldiers attack Ah, yeah! 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 No, ma non devo skillare nel combattimento, onestamente. Sto giocando... Ah, yeah! Ah, yeah! Ah, yeah! Ah, yeah! Ah, yeah! Ah, yeah! Quanti prigionieri! Ah, yeah! Ah, yeah! Ah, yeah! Ah, yeah! Ah, yeah! Fiat... 26. Ah, yeah! di tipo protezione... Piedini... Abbiamo... Ah, yeah! Tanto argento... E... Ah, yeah! Ah, yeah!